Ciao, mi chiamo Luca, sono di Napoli e vivo qui da quando avevo 16 anni. Se tu dovessi venire qui in Italia, esattamente a Riccione, potremmo passare una giornata bellissima con tutti i miei amici. Potremmo iniziare dal mattino ad andare in spiaggia, fare un aperitivo sempre sulla spiaggia con tanta musica e tanta gente, magari andare a pesca, farti vedere delle località dell'entroterra che sono stupende e vivere quindi un tipo di vacanza diversa da quella lì classica di Riccione. Qualche concerto a Rimini che di solito si organizzano dei concerti all'alba. Ti aspetto, ciao!